L'unica fortuna della triste vicenda di quella che chiameremo cittadinanza onoraria condizionata per la senatrice Segre è che la senatrice stessa e la signora Egea Afner sono per l'appunto due vere signore e reagiscono con stile e misura al loro coinvolgimento in una battaglia politica che non fa onore a Bassano, città medaglia d'oro della Resistenza. Per la verità la città di Bassano è stata trascinata in una bruttissima figura nei confronti di una grande testimone dell'orrore della Shoah come Liliana Segre e nei confronti di una testimone dell'esodo Giuliano Dalmata come la signora Afner. A trascinarla si è chiaro sono state sia l'opposizione che ha sventolato come bandiera la figura della senatrice a vita, sia la giunta guidata dal sindaco Elena Pavan che ha usato come se fosse un colpo di controartiglieria politica la figura di Egea Afner, la bambina con la valigia, che da anni racconta una lacerazione diversa, quella dell'esodo degli italiani, delle province orientali. Ricordiamo che la votazione per la cittadinanza onoraria Liliana Segre, proposta dal centro-sinistra, si era conclusa con l'abbandono dell'aula dell'opposizione per protestare contro la cancellazione delle parole sterminio e odio razziale dalla motivazione. E anche la cittadinanza data in contemporanea per non nobile contrapposizione politica a Egea Afner aveva destato perplessità. Eppure il sindaco Elena Pavan, al gentile ma fermo rifiuto della Afner alla cittadinanza, per non essere strumentalizzata, cerca di girare le carte in tavola. Trovo molto nobile e molto umile il fatto che abbia rinunciato alla cittadinanza onoraria e credo che questa sia una lezione di stile da impartire a chi usa la cittadinanza onoraria come strumento di lotta politica. In realtà, ribatte l'ex sindaco Poletto, la strumentalizzazione c'è stata, ma da parte del sindaco attuale e della maggioranza. La sommutilizzazione non l'abbiamo fatta a noi che abbiamo proposto dieci giorni prima protocollandola, una mozione che puntava a dare un'accedenza onoraria a Elena Segre in questo momento storico specifico perché è in questo momento che purtroppo la senatrice Segre è oggetto di centinaia di attacchi quotidiani. Eppure vorremmo salvare qualcosa di questa triste vicenda che, come dice Elena Pavan, si potrebbe spostare in futuro magari nelle pietre d'inciampo in una scelta bipartisan più degna della città di Bassano. Mi sarebbe piaciuto aver condiviso con l'opposizione azioni così importanti che si fondano su principi così importanti e mi auguro che per il futuro, se hanno intenzione di proporre delle altre iniziative, le condividano con noi. La contrapposizione noi, voi, però ha fatto comunque fare una figuraccia a Bassano. Come se ne esce? Se ne esce, ad esempio, con la proposta delle pietre d'inciampo che ci trova d'accordo e che se trova d'accordo anche la maggioranza basta trovarsi un'oretta insieme, decidere l'ordine al giorno e stavolta presentarlo e votarlo all'unanimità.